Cosa fa questa? Metto un cubetto di ghiaccio nel cioccolato. Perché? Stuzzicadenti, acqua, metto tutto in freezer, sciolgo il cioccolato e vado a immergere il cubetto di ghiaccio. Pochi secondi e il cioccolato si sarà rappreso. Lo metto su un piano e verrà via facilmente. Gelato, amarena e mangiatelo in fretta, non fate come me, altrimenti si scioglie. Allacciate il grembiule e provatelo anche voi!